Le cose stavano così. Il capo si era bruciato sul ramo dell'alto. L'uccino era collagliato su un'alto. Non troppo vicino al gatto, naturalmente. Il lupo camminava intorno all'albero guardando l'uccellino e il capo con occhi di lupo. Un progetto su un'alto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.